Vorrei aggiungere un altro aspetto importante nel frattempo, che la domanda spontanea che potrebbe nascere in ciascuno di noi è quella, vabbè, dice io faccio nascere un fucile già perfettamente bilanciato sui perni centrali, per cui io lo bilancio sui perni centrali, non ho bisogno più di nessun equilibratore. Magari fosse così perché la nostra vita sarebbe estremamente più semplice, ma noi siamo morfologicamente diversi, abbiamo posture diverse, abbiamo impostazioni di tiro diverse, siamo troppo veloci certe volte, siamo troppo lenti altre volte, quindi non è detto che un fucile bilanciato perfettamente sia effettivamente la bilanciatura di cui noi si abbia bisogno. Pensiamo solo ad un tiratore che è lento e che deve velocizzare il proprio movimento, alleggerirà un po' di più la canna, pesantirà il posteriore. Possiamo pensare anche ad un tiratore che è molto spostato in avanti nella sua postura. Voi capite che cambiare l'asse di qualche grado del proprio corpo vuol dire tantissimo rispetto ad un'esigenza di bilanciatura. Ecco perché non esiste di fatto il fucile perfettamente bilanciato, ecco perché c'è l'esigenza di avere un equilibratore, un bilanciatore come lo Zoli BHB che permette di identificare e trovare la miglior bilanciatura ottimale per ogni tiratore. Un altro aspetto estremamente rilevante e direi quasi unico del Zoli BHB è che per quanto riguarda le canne, noi abbiamo delle piccole calamite di 3 grammi che si posizionano esattamente sotto l'astina della canna e che possono essere aggiunte l'una all'altra fino a raggiungere la lunghezza totale dell'astina e possiamo arrivare a quasi 70 grammi sotto l'astina, volendo si può anche continuare, ma noi riteniamo sempre più importante rimanere contenuti laddove la bilanciatura, magari che richiede più peso ma che ci permette di essere controllata quindi nella zona centrale del fucile, mentre invece poi per quanto riguarda il calcio abbiamo questo tappo che una volta svitato nel suo interno contiene 6 dischi da 11 grammi l'uno e ancora una volta a seconda delle esigenze abbiamo la possibilità di poter raggiungere l'equilibratura o la bilanciatura ottimale. In questo caso noi abbiamo la possibilità di trovare mille bilanciature diverse ma senza mai snaturare le caratteristiche originali dell'arma perché in pochi secondi io non vado a influire sulla struttura dell'arma ma la mantengo originale customizzandola ma in pochi secondi rendendola tra l'altro anche rivendibile a qualsiasi altro acquirente nelle condizioni con la quale l'arma era uscita dal produttore o dal negozio. Per cui questo prodotto presenta veramente delle grandi innovazioni, della grande flessibilità abbiamo anche fatto dei test durante lo studio di questo prodotto che è richiesto anche l'intervento della medicina sportiva e cose di questo genere che attraverso questi test siamo riusciti a far testare questi prodotti a delle persone che non sapevano di avere una distribuzione diversa tra un test e l'altro e quali non credevano nei loro ragionamenti potesse essere così importante un peso diverso ma che ogni volta rilevavano che la sensazione di utilizzo dell'arma tra un primo test e un secondo test nutava e ritornava originale qualora noi riportassimo i pesi nella situazione ottimale. E tutto questo ha richiesto 14 mesi ed ecco perché noi riteniamo che sia estremamente importante questa innovazione che noi abbiamo introdotto perché abbiamo introdotto un elemento di customizzazione in più sul prodotto che darà grandi soddisfazioni e soprattutto ancora una volta ragionamento di Ezzoli la possibilità di esprimere al massimo le proprie potenzialità perché è questo che deve fare un fucile. Non deve in nessun modo snaturare o diminuire le potenzialità che albergano ciascuno di noi grazie a delle predisposizioni e a delle doti naturali che abbiamo. Oppure per agevolare non grandissime doti ma rendere sempre più semplice l'utilizzo del nostro attrezzo durante le competizioni o la disciplina sportiva che si pratica. Amici Tiratori è in edicola il numero di ottobre di Armi Magazine rivista specializzata del settore armiero. 272 pagine a 4,90 euro. All'interno un inserto di 32 pagine dedicato alle gare, ai prodotti, ai protagonisti e alle novità di questo bellissimo sport, il tiro a volo. Armi Magazine è in edicola. Avete visto tre zeri di fila? Attenzione bene, come mai? L'amico mio Simone ha fatto tre zeri. Ha fatto tre zeri perché lui ha messo in colloquio la mente cosciente e il subcosciente. Attenzione bene cosa sto dicendo. Questo è un tiro istintivo e come tale bisogna rispondere. Può darsi che nella sua mente, e questo capita a tutti i tiratori, ci sia stata la volontà di voler distruggere questo piattello. Quindi una cosa voluta. E questo comporta un colloquio tra le due menti. Noi sappiamo bene che le due menti vanno in contrasto nel tiro. Il tiro a volo, ovvero il piattello, non vuole pensieri. Quindi lui ha fatto un'azione di tiro, tre azioni di tiro coscienti, troppo coscienti. E succede questo. Ecco perché quando si insegna, tanti allievi fanno zeri perché devono mettere a fuoco cosa devono fare. Quindi è bene che ogni tanto vengano lasciati a loro stessi, cioè mandarli in automatismo. L'automatismo non permette zeri, o perlomeno gli zeri si faranno secondo lo standard storico. Quindi adesso vediamo se l'amico Simone riesce a trovare quell'automatismo per colpire questo bersaglio. Riprova. Avete visto la differenza fra prima e dopo? Quindi una differenza impercettibile. Ma dove sta? La mente ha interferito nel subcosciente del tiratore. E questo è quello che succede nelle gare. Perché nelle gare c'è troppa paura. E con la paura si va fuori dalla pedana, si esce dalla pedana, si va nel futuro. E il futuro è tutta paura. Non solo nel tiro, ma anche nella vita sociale. Quando uno pensa al futuro, si preoccupa sempre un po' troppo. Carpe diem semper. Fai ciò che è giusto. Come cogliere l'attimo fuggente e vivere felici. Quando la sera torniamo a casa dal lavoro e siamo incolonnati nel traffico tentacolare della metropoli invivibile, mentre guidiamo o siamo trasportati da un mezzo pubblico, spesso ci capita di pensare alla gara di tiro di domenica prossima. Riordiniamo allora le idee e mettiamo a punto una versione credibile per la famiglia. Siamo perfino disposti a formulare con garbo un invito del tipo Cara, perché una volta non vieni anche tu al tiro? Domenica prossima c'è una bella gara? Pur sapendo che saremo respinti con perdite. Eppure, accada quel che accada, domenica, al campo da tiro, ci saremo anche noi. Perché il nostro prossimo sembra non comprendere la sana bellezza del nostro sport e quanto esso sia importante per noi? Come mai anche a casa è così difficile farsi capire? Perché è in atto un'assidua congiura da parte di gente che ci si sveglia presto la mattina pur di metterci bastoni fra le ruote? Ma tant'è. Sembra che non ci possano vedere felici, contenti e rilassati, senza fare meno di stigmatizzare che, per andare a sparare, le abbiamo trascurati, peraltro come al solito. Chi avrà ragione? Noi o loro? Forse un po' entrambi, chissà. Comunque mi tornano spesso alla mente le parole di un vecchio a me tanto caro che diceva ai tordi bisogna tirargli quando passano, intendendo che le cose piacevoli devono essere fatte al momento che capitano e fin quando è possibile farle. Anche perché, per noi tutti, verrà un tempo in cui, ancorché vivi ed in buona salute, non saremo più in condizione di fare ciò che è bello e per noi importante. Grazie a tutti. Grazie a tutti.